I4Task potenzia la capacità umana di svolgere un intervento sul campo e la piattaforma per la collaborazione remota tra esperti e tecnici sul campo che si occupano di manutenzione certificazioni ispezioni o assistenza è una soluzione facile da usare che ti permette di avere a disposizione sempre i dati le informazioni e la documentazione relativa all'intervento anche in caso di connettività scarsa con I4Task il lavoro diventa più semplice durante un'attività segui le istruzioni sul dispositivo e aumenti la concentrazione in qualsiasi contesto ti trovi se durante un intervento hai bisogno di maggiori informazioni o hai dubbi su un passaggio I4Task ti connette in videochiamata con un esperto a distanza favorendo lo scambio e il trasferimento di competenze accelera la tua formazione sui diversi asset e ti aiuta a risolvere prima il problema anche se operi in situazioni difficili o contesti poco sicuri il tuo intervento è certificato luogo date e ora sono sempre registrati tutto quello che ti serve è in un'unica soluzione I4Task